Eminenza, Papa Francesco inizierà il suo viaggio in Africa dal Kenya, dove in aprile 147 studenti furono uccisi da estremisti islamici, come i tantissimi giovani trucidati a Parigi. Rilancerà il suo messaggio di pace e dialogo per tutti i credenti? Sì, credo che il Papa non potrà non avere negli occhi e nel cuore queste immagini raccapriccianti di questi 147 studenti uccisi in Kenya e dei giovani, delle persone e soprattutto dei giovani trucidati a Parigi. Sarà questa un'occasione appunto per rinnovare questo appello che il Papa continuamente fa, il Papa in prima linea in questo senso, agli appartenenti a tutte le religioni, a non usare il nome di Dio per giustificare la violenza. L'ha detto nell'Angelus, nel Post-Angelus di domenica scorsa, che fare questo è bestemmiare, quindi non è assolutamente rendere lode a Dio ma offendere gravemente in maniera gravissima il nome di Dio e il suo amore per noi e Dio stesso. Papa Francesco visiterà per la prima volta il continente africano che è considerato ancora periferia del pianeta. Sarà l'occasione per rilanciare il suo messaggio dell'enciclica Laudato Si e del discorso all'ONU sulla lotta contro l'esclusione economica e la difesa dell'ambiente naturale. Ci sarà un forte messaggio in questo senso, nel senso cioè di lottare contro la povertà, contro l'esclusione, di assicurare a tutta la popolazione, ad ognuno dei suoi componenti, una vita degna, ecco una vita che rispetti la dignità di esseri umani e di figli di Dio delle popolazioni dell'Africa. Ci sarà anche appunto l'occasione di farlo perché sappiamo per esempio che a Nairobi ci sono due organizzazioni delle Nazioni Unite che si interessano particolarmente di questi problemi e cioè il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'UNEP, e quello per l'Habitat, l'ONU Habitat. E poi siamo anche alla vigilia di due evenimenti importanti, prima di tutto la conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici che inizierà proprio in coincidenza con la fine del viaggio del Papa e la decima conferenza ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che si terrà a Nairobi nei giorni seguenti alla visita del Papa. Quindi anche questo anche queste diciamo circostanze ecco vanno nel senso appunto di una ricerca di criteri etici per governare l'economia in maniera equa in modo tale che i benefici di questa economia possano giungere a tutti e a ciascuno. Nella Repubblica Centrafricana il Papa aprirà la prima porta santa del Giubileo della Misericordia. Sarà un gesto per rilanciare il messaggio di pace per il Paese e per tutto il continente. Ne ha bisogno la Repubblica Centroafricana di pace e di misericordia ed è un gesto molto bello quello che farà il Papa anticipando naturalmente l'apertura della porta santa per tutta la Chiesa, per la Chiesa Universale l'8 dicembre nella Basilica di San Pietro. Sarà un gesto anche questo per manifestare misericordia nel senso di manifestare vicinanza ad una popolazione duramente provata per una situazione endemica di povertà e di precarietà che si è aggravata appunto in ragione del recente conflitto, di questo conflitto che ancora perdura, di questo clima di violenza e di ostilità che ancora è presente nel Paese. Sarà oltre che una manifestazione di vicinanza anche un incoraggiamento, un incoraggiamento a curare le ferite, un incoraggiamento a superare le divisioni in nome del rispetto e dell'accettazione reciproca, ecco, in maniera tale che i gruppi che ora si fronteggiano possano, diciamo, trovare le ragioni per lavorare insieme a beneficio del Paese, del bene comune del Paese. In Uganda Papa Francesco onorerà i santi martiri ugandesi canonizzati 50 anni fa, a più di un secolo dalla morte. La loro testimonianza di fede parla ancora all'Africa e al mondo di oggi? Parla nel senso che, ecco, ci dice come, ecco, per i valori profondi, che poi per noi cristiani sono una persona Gesù Cristo, si può essere disposti anche a dare la vita, ecco, non soltanto per le cose effimere o per la ricerca di beni passeggeri, ecco, di benessere soltanto materiale. Ci sono alcune realtà per le quali ci deve essere disposti a dare la vita e nello stesso tempo ci dicono anche che la fede può diventare veramente il seme, il germe, l'inizio di un umanesimo più pieno e più integrale, che quindi la fede diventa anche una motivazione in più e una spinta in più, ecco, per costruire una società fraterna, una società pacifica, una società solidale e per cercare davvero il bene di tutti.